in questa puntata un minuto di silenzio per la morte di silvio berlusconi difensore civico l'aula approva l'attività svolta lo scorso anno al via la 35esima edizione del festival torrita blues scandicci open city oltre 160 eventi teatro musica cinema e danza prima dell'inizio dei lavori su invito del presidente antonio mazzeo il consiglio regionale ha osservato un minuto di silenzio per ricordare la figura di silvio berlusconi scomparso lunedì all'età di 86 anni berlusconi ha ricordato mazzeo è stato presidente del consiglio dei ministri dal 1994 al 1995 poi dal 2001 al 2006 e infine dal 2008 al 2011 deputato per cinque legislature e senatore per due compresa l'ultima fondatore del popolo della libertà e di forza italia partito di cui è stato fino all'ultimo presidente ed è stato un protagonista indiscusso degli ultimi 30 anni della storia del nostro paese non soltanto dal punto di vista politico ma anche a livello imprenditoriale sportivo io penso il presidente abbia lasciato a questo paese molta più libertà rispetto a quella che c'era prima abbia lasciato a questo paese una dimensione dell'individuo rispetto diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati con i vecchi partiti ha completamente stravolto il paradigma eravamo abituati a farci dire dallo stato cosa era giusto non giusto fare senza tenere in considerazione le libertà individuali il presidente ha rimesso al centro della politica e della cultura italiana l'individuo cioè viene prima l'individuo vengono prima i sogni personali di ognuno di noi rispettando naturalmente le leggi ma rispetto a quello dello stato ci deve dire di cosa possiamo non possiamo fare e poi c'è il l'uomo che se l'imprenditore il politico era assolutamente tenace un grandissimo lavoratore l'uomo aveva un profilo umano che era avvolgente era un uomo che riusciva a metterti a proprio agio era un uomo che quando parlava con te ti faceva sentire al centro del mondo diventavi la persona più importante aveva questa capacità di poter parlare con putin o con bush e poi un minuto dopo riconcentrarsi assolutamente su di te e questo ti faceva sentire importante ma non era una facciata non era un uomo costruito era veramente così era interessato era un uomo estremamente curioso era interessato agli aspetti umani di ognuno di noi ricordava i nomi delle mogli dei figli dei mariti di ognuno di noi conosceva la storia di ognuno di noi politica e professionale era sempre disposto ad aiutarti c'era sempre avevamo tutti il numero di telefono è difficile anche da raccontare per chi non l'ha vissuto i partiti sono abituati a cambiare i propri leader io non so se sia un bene o un male questo so però che dal 1993 il presidente ha stretto la mano ad ognuno di noi ognuno di noi ha avuto la la possibilità di fare una foto a un berlusconi ognuno di noi ha avuto la possibilità di scambiare parole personali con il presidente ognuno di noi ha avuto la possibilità di telefonare direttamente ad arcore ognuno di noi ha avuto la possibilità di raccontare al presidente anche i propri problemi ho condiviso la scelta del consiglio regionale di sospendere i lavori di fare una giornata di lutto nazionale anche dei nostri lavori di un momento di riflessione di quello che è stato un innovatore della politica che ha cambiato il sistema politico oggi si parla di bipolarismo perché lui ha creato il concetto di centrodestra di centrosinistra che non esisteva nella prima repubblica ha creato una dicotomia ha portato avanti le proprie stanze liberali io sono sempre stato dall'altra parte non l'ho mai votato l'ho sempre criticato il mio impegno politico nasce antitetico alle politiche e alla figura di berlusconi che oggi viene riconosciuto però come un soggetto politico importante una personalità un presidente del consiglio che è stato più di 3.300 giorni a guidare il nostro paese colui che più di ogni altro nell'epoca repubblicana ha guidato l'italia che ha innovato il sistema della comunicazione che ha fatto impresa che ha creato grandi successi nello sport una grande personalità che viene riconosciuta oggi forse del quale oggi tutti mi auguro possono portare rispetto io in primis lo porto e riconosco diciamo la correttezza di fermarsi un giorno perché quando una personalità di questo calibro lascia il nostro paese è corretto che poi ciascuno di noi si interroghi su quello che ha prodotto e di come ha innovato la seconda repubblica era un uomo era un visionario un uomo che aveva dei grandi aveva delle grandi prospettive in tutti gli ambienti dove lui si è calato aveva proprio una visione che era vent'anni avanti a tutti nella nella televisione nel nello sport nella politica nell'editoria era un uomo che veramente trascinava aveva un grande entusiasmo e soprattutto aveva riusciva ad avere una grande empatia con tutti quelli che che incontrava io lo ricordo per la sua grande disponibilità ma soprattutto la grande generosità è un uomo che non si è mai dimenticato di chi ha lavorato con lui e anche figure che probabilmente che spesso lo potevano potevano annebbiare no offuscare quello che era il suo percorso lui non le ha mai rinnegate e credo e credo che questo dimostri la grandezza di una persona il consiglio regionale della toscana nella seduta di martedì ha approvato attraverso una risoluzione l'attività svolta dal difensore civico regionale nel 2022 la risoluzione già approvata dalla commissione affari istituzionali passa con 21 voti a favore pd italia viva e 11 contrari lega fratelli d'italia gruppo misto toscana domani dopo un periodo non semplice in cui di fatto è risultata vacante la figura del difensore civico regionale si è arrivati alla designazione di lucia annibali la quale si è presentata puntualmente in prima commissione per relazionare sull'attività del 2022 nell'evidente anomalia che in quell'anno non era lucia annibali ad essere il difensore civico della regione toscana nonostante questo è stata l'occasione per riflettere sull'attività del difensore civico e fare anche un'analisi di ciò che è stato fatto nel non semplice 2022 c'è da dire che c'è stata una lieve flessione delle istanze presentate al difensore civico regionale sono state 1495 le istanze presentate nel corso del 2022 quindi meno dell'anno precedente dovuto però in realtà più che alle carenze strutturali o dell'ufficio allo strasceco derivante dalla pandemia in quanto questo ha senza dubbio provocato un parziale allontanamento da parte dei cittadini rispetto all'istituto della difesa civica c'è stato però un progressivo avvicinamento ai territori della toscana dell'istituto del difensore civico sono stati ulteriormente aperti numerosi sportelli di prossimità un po' disseminati in tutto il territorio della regione mi piace evidenziare che questo è un aspetto nel quale si compendi all'effettiva gratuità del difensore civico perché il cittadino in questo modo evita di avere anche i costi di trasporto per poter accedere alla tutela civica. Noi veniamo da un anno in cui il difensore civico non ha fatto assolutamente niente dopo in passato qualcosa aveva fatto ricordo ancora le denunce in aula del collega Stella sugli aperitivi costosissimi per inaugurare i sedi in giro per la toscana lo scorso anno il difensore civico non ha fatto niente perché il 10 di aprile si è dimesso dopo solo quattro mesi di lavoro per andare a fare altro per andare a fare l'addetto stampa dell'agenzia che rilancia i comunicati della giunta regionale quindi siamo stati nove mesi perché il nuovo difensore civico è arrivato a febbraio nove mesi senza difensore civico e anche in questo caso approviamo un atto dove il partito democratico dice esprimiamo grande soddisfazione per il lavoro svolto facendo il copia e incolla dell'atto dell'anno scorso. Di fronte a un difensore civico che lavora quattro mesi si rimette perché va a fare altro e per nove mesi la regione toscana resta senza difensore civico perché Italia Viva e il PD si dovevano mettere d'accordo su chi nominare noi esprimiamo grande soddisfazione e noi dovremmo esprimere grave disappunto per quanto è successo una soddisfazione. Sul difensore civico abbiamo espresso una massima condivisione delle politiche portate avanti dalla nuova difensora civica Lucia Annibali rispetto a degli elementi importanti rispetto alla conoscenza della funzione una presenza sul territorio le opportunità fornite nei confronti dei cittadini e delle cittadine toscane e soprattutto un servizio di tutela nei confronti di tanti servizi integrati dove il cittadino a volte sente solo rispetto a queste società a tutte le bollette che arrivano a casa a tutta una serie di servizi dove le persone non riescono ad avere una risposta in un'interlocuzione quindi ovviamente è un giudizio positivo che prosegue le esperienze del passato ma che rilancia una strategia positiva che conferma anche la validità dell'operazione che portò a me stesso avanzare la proposta di Lucia Annibali quale il nuovo difensore civico della Toscana. La figura del difensore civico sia una figura quanto mai importante tratta della tutela dei diritti dei toscani però se andiamo bene a vedere purtroppo nell'ultimo anno notiamo un arretramento delle richieste di intervento del garante in particolare per l'ordinamento finanziario in materia sanitaria i ricorsi sui servizi pubblici e questo perché? Perché il centro-sinistra con le proprie divisioni ha fatto perdere veramente troppo tempo per nove nove mesi è mancata questa figura ai toscani. Noi siamo stati molto critici che le divisioni all'interno del centro-sinistra abbiano fatto mancare questa figura ai toscani. Notiamo che il nuovo difensore civico si è messo a disposizione, cerchiamo di avere un buon rapporto ma certo il 2022 questi nove mesi sono stati veramente tanti. Torrita di Siena Torrita di Siena si veste a festa per Torrita Blues 2023, 35esima edizione del Festival di Musica che si svolgerà nel Borgo, nel cuore della Toscana da giovedì 22 a sabato 24 giugno. Un evento importante, un evento che racconta bene la bellezza di una Toscana diffusa. Torrita Blues renderà Torrita la capitale toscana della musica, del blues in questi giorni. Un evento importante, un evento da far conoscere, un evento che tiene insieme cultura, che tiene insieme arte perché Torrita è uno dei borghi più belli della nostra regione, che tiene insieme anche la capacità di saper fare solidarietà. Questa è la Toscana. Ci sarà una cena in cui le risorse verranno messe a disposizione di Casa Marta. Un luogo bello, un luogo importante, un luogo che aiuta i bambini che soffrono. Quindi grazie davvero per queste giornate che siano momenti di festa, di divertimento ma anche di solidarietà. Quest'anno siamo arrivati alla 35esima edizione. Direi che siamo uno dei festival più longevi in Italia e oso dire anche in Europa. Quest'edizione è particolarmente ricca perché si apre con una cosa anche un po' particolare. Perché la scena tradizionale che facciamo giovedì 22 giugno è in collaborazione alla Copp Firenze in quanto parte degli utili andranno devoluti a progetto Casa Marta e quindi raccoglieremo dei fondi anche per questo progetto. La scena nacque con il primo gemellaggio che facciamo con New Orleans, immediatamente dopo Catrina. Quindi chiamiamo l'anno successivo solo artisti di quella località. Nell'occasione venne sia l'assessore alla cultura di New Orleans sia alcuni cuochi che vogliono fare uno scambio anche culinario. Nell'occasione esordimo con questa scena che poi non abbiamo mai interrotto. Quindi il giovedì si apre con tre band che sono quelle vincitori di Effetto Blues. Effetto Blues è la tradizionale ormai competizione, chiamiamola così anche se di fatto non lo è, dove scegliamo i gruppi che saliranno su quel palco. È frutto di una selezione italiana e quindi l'ingresso è gratuito per quanto riguarda gli spettacoli. La scena ha un costo di 20 euro, lo dico perché è una scena popolare con questo scopo anche benefico. Al via la nuova edizione di Scandicci Open City. Il Cantiere della Meraviglia propone quest'anno 160 eventi tra teatro, musica, cinema, danza, circo contemporaneo, poesia, talk show e incontri che fino al 24 settembre animeranno piazze, giardini, circoli, ville, aie, castelli e boschi. Sono davvero felice di poter ospitare la presentazione di questa bellissima iniziativa, anzi una serie di iniziative, più di 160 Scandicci, 27 associazioni impegnate, un programma costruito insieme al territorio, costruito dal basso, musica, cinema, danza, tutta la cultura che si tiene per mano, è un modo per aprirsi alla cittadinanza, un modo per ritornare vivi nelle nostre piazze, nei nostri cinema, in modo da parlare a pubblici molto differenti, dai ragazzi più giovani fino al mondo della danza, piuttosto che delle iniziative che possano davvero aprire Scandicci alla Toscana. Quindi complimenti, complimenti all'assessore Sereni, complimenti al sindaco, all'amministrazione, e complimenti alle associazioni per le tante iniziative proposte. Davvero sarà una bellissima estate. Il Cantiere della Meraviglia apre alla città e al pubblico una serie di esperienze varie nei generi, teatro, cinema, danza, ma anche cose sperimentali e nuove come il Festival Queer alla Casa del Popolo di Vingone, oppure le 12 ore di musica al parcheggio di Villa Costanza. E ci darà la possibilità di scoprire gli artisti, di scoprire il programma, ma anche di vedere in modo nuovo i luoghi della città. È una sorta di progetto che vuole un po' essere una chiave di accesso che guarda agli spazi in una maniera nuova, li rigenera, in maniera tale che appunto il visitatore possa vivere questa esperienza dove la creatività ci apre le porte di nuove emozioni e ci dà la possibilità, grazie allo spettacolo da vivo, di stare insieme tutta l'estate. Sono 160 eventi, da giugno al 24 di settembre, in cui un pubblico vario, bambini, famiglie, giovani, anziani, potranno avere sempre qualcosa da vedere, uno spettacolo a cui partecipare tutte le sere.